Il Pineto cade nella trappola di una vastese già salva ma tutt'altro che rinunciataria. Gli Aragonesi si impongono in rimonta per 2-1 al Mariani Pavone nel recupero e fanno lo sgambetto e Biancazzurri nella corsa ai play-off in attesa dell'altro recupero contro il Castelnuovo fissato per il 2 giugno. Comante nel suo 3-4-1-2 effetto a due cambi rispetto alla formazione vincitrice contro il Monte Giorgio con l'esordio di Brattelli in difesa per Mesisca e Baldinini a centrocampo al posto di Galeano. Sorprende invece lo schieramento aragonese con D'Adderio che opta per il 3-5-2 al fine di arginare le sortite degli esterni pinetesi inserendo Barbarossa e Diallo larghi a centrocampo. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Stresa l'arbitro Claudio Campobasso della sezione di Formia dà il via alle ostilità prima occasione di marca locale al decimo con Baldinini che invecca in verticale Minnozzi ma l'attaccante perde l'attimo e si fa recuperare dalla chiusura della difesa vastese vanificando una buona opportunità. Ancora Pineto al diciassettesimo con Baldinini che tenta la conclusione d'esterno ma la sfera termina fuori. I biancazzurri di casa insistono e sfiorano il gol al ventesimo con Minincleri che riceve palla sulla destra e fa partire il diagonale che lambisce il palo e termina sul fondo. La partita si accende nel finale di frazione. Al trentanovesimo Minincleri fa partire il traversone sul secondo palo il colpo di testa di Della Quercia che viene respinto la sfera carambola sui piedi di Minnozzi che dal limite non perdona e porta in vantaggio i suoi. Ma la risposta ospite è immediata con la vastese che rientra subito in partita. Al quarantunesimo sugli sviluppi del corner di Obodo è impeccabile il colpo di testa a incrociare sul secondo palo di Monza che insacca l'argolino e riporta la gara in parità. Il primo tempo finisce sul punteggio di 1 a 1. Si accende subito la gara nella ripresa con la vastese che in apertura riesce a ribaltare il risultato. Al settimo giocata in verticale di Martiniello per Mamona che sorprende la difesa biancazzurra e in velocità salta Mercorelli insaccando indisturbato la sfera in fondo al sacco per il sorpasso della vastese che ribalta il risultato. 1-2 e ottavo gol in campionato su azione per Mamona. La reazione della squadra di casa al diciassettesimo quando Della Quercia mette in mezzo il traversone ma è perfetto l'anticipo di Barbarossa sugli avanti pinetesi. Passa un minuto e ancora Pineto pericoloso. Minnozzi recupera un buon pallone, resiste alla retroguardia bianco-rossa e libera di tacco Romano che però tenta una sorta di pallonetto non riuscendo a trovare il colpo grosso. Insiste la formazione di Pomante nel tentativo di recuperare le sorti del match al ventesimo punizione di Minincleri sul primo palo ma di Rienzo si fa trovare pronto e disinnesca ma l'occasione più ghiotta per i locali è al ventiquattresimo per il neoentrato Mbuba che imbeccato alla perfezione da Minincleri dà solo l'illusione del gol con la sfera che termina fuori di un niente. Il Pineto risente nel finale anche dei tanti impegni ravvicinati e Pomante inserisce ancora forze fresche. Al trentaseiesimo cambio tattico per il tecnico locale che richiama Pepe e fa entrare Bugaro passando di fatto ad un 4-2-4 e tentando il tutto per tutto ma è la vastese a rendersi pericolosa. Al trentanovesimo con un lampo di Diarrà sul quale è bravo Mercorelli in tuffo a disinnescare spedendo in corner. Nel finale è una solo Pinetese al 42esimo ripartenza veloce dei Biancazzurri con Bugaro che prima pensa al tiro poi serve Romano che però sbilanciato spreca spedendo abbondantemente largo. Ultima occasione al 44esimo per Galeano dalla distanza ma il rasoterra pericoloso esce fuori di un soffio. Il derby così si tinge di bianco-rosso con la vastese che si porta a casa l'intera posta in palio. Pasto falso del Pineto che frena nella corsa playoff e rimanda le proprie chance alla sfida contro il Castelnuovo, Covid permettendo. Sì 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 ma la vastese sapevamo che veniva a fare questa partita. Io penso che oggi soprattutto nel primo tempo è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto fino adesso perché nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni per fare gol. Non siamo stati bravi a sfruttarla. Poi alla prima disattenzione abbiamo preso il pareggio. Da direttore a quale sei stato, quanto sei arrabbiato per come finiva a fare il secondo gol? Sono arrabbiato perché era una cosa provata in allenamento. Sapevamo che loro puntavano molto sulla velocità di Mamona. Infatti Mamona penso che in tutta la partita abbia toccato un pallone solo. Però ci sta. È normale dove un po' mi arrabbio. Ho detto ai ragazzi che sono contentissimo della prestazione perché della prestazione sono contento. È normale che quando crei 8-9 palle gol così nitide davanti al portiere fare solo un gol mi fa arrabbiare. Però io ai ragazzi gli ho fatto i complimenti perché è vero abbiamo perso. È vero abbiamo perso su due nostre disattenzioni. Però oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto. C'è il rammarico di non aver sfruttato quelle tante occasioni da gol. Dobbiamo onorare per forza la maglia. Abbiamo sbagliato delle cose. C'è stata una ripercussione negativa sapendo che comunque eravamo salvi. Però anche domenica scorsa a Bastos Girardi abbiamo sfiorato più volte il gol per andare al pari. A Montegiorgio abbiamo perso all'ultimo minuto. Io non posso accettare che noi molliamo ma non lo condivido ma più che altro perché è nel nostro onore. Noi siamo venuti qua a fare la nostra partita per nulla togliere Alpineto che è un'ottima squadra. Perché comunque dovevamo onorare la nostra maglia e la nostra posizione. Il nostro problema è che se noi giochiamo da ultimi in classifica noi possiamo vincere con tutti. Se noi pensiamo di essere bravi perdiamo con tutti. Il nostro problema dopo il notaresco è stato di pensare che eravamo bravi. E questo è l'episodio e la situazione generale. Oggi ho voluto una squadra battagliera un po' per necessità perché mancava qualcuno. Un po' perché Alpineto devi venire a fare la guerra. Ma la guerra per portare via i punti ma non per altro perché noi rispettiamo Alpineto. Anzi auguriamo Alpineto di avere da domani subito un'altra di cambiare rotta. Però noi ci siamo venuti a giocare la partita per onorare noi stessi.